Alessandro Trusciglio, direttore sportivo del settore giovanile di Orizzonti, tante soddisfazioni da parte dei ragazzi più grandi ma altrettante da quelli dei più piccoli, dai più piccoli del vivaio, è vero? Sì, sì, direi proprio di sì. Pensavo proprio oggi, dicevo abbiamo un parco allenatori incredibile, sono 27 allenatori dove si parte dai piccoli amici, scuola calcio, settore giovanile e poi con preparatori portieri. Quest'anno abbiamo cambiato un pochettino la nostra mentalità, nel senso che ci siamo un po' evoluti, abbiamo messo parecchi istruttori ISEF sotto, nel senso che Real Canavex aveva già quella idea, noi forse eravamo un pochettino indietro. Abbiamo, tra noi, tra i due concentramenti, Tacaluso e Ciliano, abbiamo quattro istruttori ISEF sotto nei piccoli amici ed è molto importante. Sopra, beh, ci sono molti altri allenatori molto tecnici, molto preparati sicuramente. Soddisfazioni tante, tante, io ho seguito qualche partita, non tutte perché onestamente non posso essere dappertutto, però i mister quando mi chiamano sono molto molto contenti, molto motivati. Rispetto all'altro anno, quest'anno sono tutti quanti contenti, quando alzo il telefono mi raccontano tutto quanto, perciò va benissimo, direi che va benissimo. Li vedo lavorare anche durante la settimana, vengono un po' qua, noi andiamo di là, ci mescoliamo un pochettino, avevamo forse paura inizialmente di questo, invece noto che va molto bene. Sì, ricordo che c'è una grande collaborazione, specialmente, senza nulla togliere i pulcini, ma tanta collaborazione tra i mister degli esordienti. Sì, sicuramente, nel 2002 vanno molto d'accordo i due mister, si sono incontrati parecchie volte, si compensano anche l'uno con l'altro, ok? I due gruppi vanno molto d'accordo, noi siamo molto contenti, poi ottengono, oltre che giocare bene, ottengono anche buoni risultati. Domenica scorsa hanno pareggiato con la Provercelli, l'altro gruppo ha vinto comunque a Strambino. No, 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 siamo molto contenti, io in primis il presidente, anche perché poi il presidente è il figlio che gioca tra le altre cose nel 2002, ma non per quello è tifoto solo nel 2002. Però siamo molto contenti, intorno al 2002, poi ci sono comunque anche il 2003, di Vachino, del mister Vachino, di Pasteris. Tra l'altro Pasteris allena, ma sta prendendo anche il patentino, perciò non è facile, so che è pesante la cosa, però anche lui piace il calcio, va bene così. I ragazzi lo seguono in tutte le categorie, tutte le categorie dei piccoli, ma poi vederli giocare, vederli muovere è una cosa incredibile. Hanno voglia, si divertono, è quello che è importante, è quello molto importante. Alcune categorie, sia per ex realo e ex orizzonti, diciamo vecchio corso, sono raddoppiate, in alcuni casi anche triplicate. Come si gestiscono così tanti bambini? È difficilissimo, è molto difficile. Io ogni tanto vedo gli allenamenti, non è facile. Per fortuna c'è una programmazione sotto, c'è una programmazione, gli istruttori nostri sono molto preparati, e sanno un attimo come comportarsi in campo con i ragazzini. Certo non si può pensare di avere un mister con 18 bambini piccoli. Questi allenatori hanno dei personaggi che li aiutano in campo, magari semplicemente li spostano, o gli preparano un esercizio in modo che i ragazzi non perdono l'attenzione, fanno sempre quello che il mister gli dice di fare. Riescono sempre a ottenere sicuramente la loro attenzione. No, no, noi siamo contenti, siamo veramente contenti come stiamo programmando gli allenamenti e le categorie. Io personalmente sono molto contento. La scuola calcio giustamente non fa classifica. Quindi dove vorresti che arrivassero i piccoli amici, i pulcini e gli esordienti quest'anno, a fine di questa stagione? Io onestamente ho parlato con tutti gli istruttori, anche gli istruttori ISEF, come dicevo prima, ne abbiamo tanti. Noi dobbiamo pensare che loro devono crescere, devono imparare a conoscere il loro corpo in tutti i modi, rapportarsi con i ragazzini della loro età, quello è già tanto. I risultati si ottengono solo col tempo e con gli allenamenti, sicuramente fatti bene. Non voglio nient'altro, voglio solo che loro e questi ragazzini lavorano e lo possano fare, sicuramente in questa società lo possono fare. E ti manca fare il mister? Devo dirti la verità, non tanto. Stranamente perché non l'avrei detto, non l'avrei detto, non ho accettato ben volentieri di fare il direttore sportivo, avendo allenato per parecchi anni. Mi sono messo in gioco e onestamente tanti mi dicono che questo è il mio ruolo. Io non lo so, non so se facevo meglio l'allenatore o meglio il direttore sportivo. Quello che noto comunque sono molto ascoltato da parte di tutti, da parte di tutti, soprattutto dei ragazzini. Quando entro nel campo chiedo a loro come va e come non va, non mi interessa il risultato, mi interessa solo capire se si trovano bene. Perciò mi abbasso con loro, chiedo un pochettino di che squadra tifono, perché voglio capire un attimo se veramente si trovano a loro agio. No, va bene dai, va bene.